Il vento gelido non ha fermato i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Cassata Gattapone di Gubbio nel voler celebrare l'8 marzo, la giornata internazionale dei diritti della donna. L'iniziativa odierna ha coronato un percorso formativo sulla cultura dell'inclusione e la lotta agli stereotipi di genere, avviato negli scorsi mesi dagli studenti dei due plessi Ogubini, che ha visto il coinvolgimento della psicologa sociale dell'Università di Perugia, Ilaria Giovannelli, e dei docenti dei vari indirizzi di studio, le professoresse Anna Maria Menichetti, Paola Tomarelli, Paola Pallucca e i professori Lorenzo Minelli e Paolo Rosati. I ragazzi e le ragazze hanno svelato e inaugurato due panchine rosse, una al Gattapone e una al Cassata, simbolo entrambe dell'impegno della scuola e degli studenti nel contrastare la violenza di genere e la violenza in generale. Nel corso della mattinata, gli studenti del Gattapone hanno letto passi del libro di Aldo Cazzullo Le donne eriditeranno la terra e del commediografo greco Aristofane, per poi affidare al vento le voci nell'interpretazione del brano, quello che le donne non dicono. A Cassata, gli alunni, dopo l'inaugurazione della panchina, hanno presentato l'alfabeto degli stereotipi per poi lasciare spazio all'analisi del ruolo della donna nella politica, nella legislazione e nella letteratura.